chi l'avrebbe mai detto alexa incredibile ma vero è un colossale fallimento ciao ragazzi e bentornati qui nel mio canale io sono michele e non l'avrei mai detto credetemi ma a quanto pare i dispositivi alexa di amazon sono un grande flop a tal punto che l'azienda madre ha deciso di licenziare ben 10.000 dipendenti legati proprio allo sviluppo di questi dispositivi per la domotica di casa ma per quale motivo ragazzi non vi nascondo che questa notizia mi è molto sorpreso un po perché dispositivi alexa si vendono molto facilmente sono sempre tra i best buy su amazon e vengono scontati tantissimo come ad esempio nell'ultimo black friday anche se sconti così importanti non sono sempre di buona auspicio per quale motivo quindi nonostante il volume di vendite così elevato nonostante sia così conosciuto praticamente tutti abbiamo un dispositivo eco in casa se non l'avete lasciate un commento qui sotto perché amazon ha deciso di licenziare così tanti dipendenti beh il motivo sembrerebbe essere che l'azienda sta vendendo i suoi dispositivi alexa in perdita e inoltre chi li compra chi li acquista non li sta utilizzando nel modo originariamente pensato da amazon cosa vuol dire questo beh vuol dire che oltre a fare domande ad esempio alexa com'è il tempo qui a bari oppure chiedere qualche stupidaggine o magari accendere delle lampadine in casa amazon pensava che avremmo iniziato un po tutti a fare acquisti sul loro store su amazon utilizzando solo la nostra voce è loro i dispositivi eco alexa generando quindi molte più entrate in dirette e profitti per lo store che avrebbe compensato il volume di vendita in perdita di questi dispositivi ma così non è stato in pochissimi io non l'ho mai fatto utilizzano questi dispositivi per effettuare acquisti online utilizzando solo la voce perché ragazzi parliamoci chiaro è molto più comodo aprire il browser internet consultare verificare il prezzo è decidere se acquistare oppure no è legato a questo problema c'è anche un ulteriore problema ed è quello delle sponsorizzazioni infatti molte aziende pensavano di fare profitto indirettamente utilizzando alexa ma così non è stato gli acquisti utilizzando questi dispositivi a quanto pare si contano sulle dita di una mano magari migliaia di mani però comunque cifre abbastanza erisorie per quanto riguarda il volume di vendita cosa vuol dire questo che tra non molto non vedremo più dispositivi eco alexa in casa nostra beh secondo me è ancora presto per essere così drammatici ragazzi penso che amazon sicuramente terra in considerazione l'elevatissimo volume di vendita di questi dispositivi che comunque sono stra venduti e deciderà magari di cambiare un po il suo progetto originario o comunque quello che sarà il futuro di alexa rendendolo sempre più parte integrante della domotica è pensato meno per generare profitti indirettamente come era nelle idee originali e questo è quanto ragazzi questa notizia vi ha sconvolto almeno quanto ha sconvolto ma beh parliamo insieme qui sotto nei commenti di tela vostra vi ricordo inoltre che se volete restare aggiornati sui miei nuovi video sulle offerte dal mondo della tecnologia e molto altro vi lascio il link per il mio canale telegram ufficiale tech best deals qui sotto in descrizione insieme al link per il mio gruppo facebook è la mia pagina instagram entrate numerosi vi aspetto ragazzi è ovviamente un bel like per supportarmi se di dove è piaciuto e se volete aiutarmi a far crescere questo contatore ora fermo a 86.500 iscritti beh semplicemente iscrivetevi a questo canale c'è il tastino iscriviti qui in basso grazie a tutti amici noi ci salutiamo e ci qui su addicta stu tech alla prossima ciao ragazzi